La campagna prova a uscire dal napolicentrismo nell'offerta turistica, mettendo al centro di tutte le politiche di sviluppo del settore le aree interne e le loro caratteristiche. Sarà questa la novità alla 58esima edizione della Fiera del Turismo di Rimini, a cui parteciperà anche la Regione. Borghieno Gastronomia ed Esperienza, un nuovo modello di turismo delle aree interne. Questo è il titolo dell'evento di preparazione alla fiera che si è tenuto questa mattina nella sede del Consiglio regionale, organizzata dal Presidente della Terza Commissione Speciale del Parlamentino Campano, Michele Cammarano. La Regione Campania per anni ha promosso i centri di interesse che noi tutti conosciamo, che sono le coste amalfitane, le cilentane, Pestum, Pompei, però per la prima volta noi siamo presenti con le aree interne. Noi abbiamo tantissimo da offrire nelle nostre aree interne, parlo di borghi, parlo di parchi naturali che sono tutelati e sono anche i pariboni dell'unisco ed è in qualche modo giusto portare a conoscenza dei turisti, dei tour operator soprattutto, che c'è una bellezza inesplorata da visitare. Ma questo noi non lo facciamo solo per il turismo, in questo momento lo stiamo facendo perché c'è la fiera a Rimini, ma lo facciamo anche per quanto riguarda la sanità, lo facciamo per i trasporti, lo facciamo per l'agricoltura. Tutto il senso della nostra commissione aree interna è quella di migliorare e variare alcuni parametri che regolano la vita nelle aree interne, che sono comunque costantemente interessate da uno spopolamento continuo. Seduto di fianco al consigliere Cammarano l'assessore al turismo della regione, Felice Casucci, che ha spiegato in che modo il governo regionale sta lavorando per traghettare i flussi turistici anche nelle province meno conosciute del territorio. Ci crediamo sentitamente perché è un tema che risolverà il problema dello sviluppo anche delle aree costiere. Questo non è comprensibile a tutti e non è compreso da tutti. Quindi temo che mi sia un atteggiamento che è un atteggiamento di rifiuto su questo argomento. Io quando ho sviluppato il piano turismo, che ho sottoposto anche alla commissione aree interne e al suo presidente, ho avuto delle difficoltà proprio con alcuni rappresentanti degli operatori economici che operano sulle aree costiere, ritenendo che le aree interne non abbiano alcuna possibilità di sviluppo perché mancano una serie di servizi, di elementi infrastrutturali che consentono questo sviluppo. A parte che le aree interne, la mancanza di servizi può diventare un elemento caratterizzante, quelle aree e quel tipo di turismo che è diverso dal turismo costiero. Non necessariamente bisogna avere tutto per godere di una situazione di territorialità assistita in termini di bellezza, incontri culturali, relazioni con le persone. Anzi, più autentica quel momento turistico, più questa autenticità gioca a favore di quel turismo che si chiama infatti turismo esperienziale.